Possiamo dire che quindi il lunedì dell'Angelo si è trasformato nel lunedì di D'Angelo. Temevo che qualcuno lo dicesse. Ci pensavo ieri, quando ho visto che è il lunedì dell'Angelo, per forza arriva. Se va bene qualcuno lo dirà. È ovvio che dedichiamo la vittoria al nostro tifoso, mi auguro che sia bene. E' stata una cosa abbastanza dura da vedere. Perciò speriamo che questa vittoria lo aiuti a recuperare presto. Per quello che riguarda la gara, credo che l'abbiamo vinta in maniera meritata. Alla prima occasione, o forse alla seconda occasione, Nascoli ha pareggiato. Ma noi avevamo bene la partita e nel secondo tempo abbiamo ripreso subito con grande forza. E siamo andati a vincere la gara in maniera più che meritata per me. Io spero che il tifoso che è stato male si riprende. Questa vittoria è per lui. Volevo ringraziare tutta la squadra che ha lottato dal primo fino all'ultimo minuto per vincere questa partita. e dedico il mio gol alla mia moglie che adesso è incinta e li voglio tanto bene. Sono sei punti pesanti contro una squadra che lotta anche per la salvezza. Era molto importante oggi a vincere. Era stato bellissimo veramente al picco a segnare un gol così importante. Però non dimentichiamo cosa abbiamo fatto fino adesso. e speriamo adesso con l'ecco di fare un'altra bella partita e vincere.